Curioso, questa è una pettorina per cani che dovrebbe avere l'effetto di calmare, quindi diciamo una sorta di, non lo so, qualcosa per curare l'ansia. Non l'ho ancora provato, vediamo un attimino, vediamo com'è fatto poi eventualmente nei prossimi giorni lo proverò con la mia cagnolina e vediamo se dà qualche beneficio oppure no. Esiste in varie misure, io penso e spero di aver preso la misura giusta, diciamo che sembra più che altro quasi una mantellina per tipo l'antipioggia, è comunque regolabile, ha un velcro, adesso leggendo altre recensioni in giro sembra che effettivamente funzioni e non so onestamente come faccia a funzionare, comunque, vedremo, non vi so dire. Lo proverò ed eventualmente lo scriverò nei commenti. Grazie e alla prossima!